Infatti io ritengo molto sbagliate alcune scelte fatte da amministrazioni locali, faccio l'esempio quella di Trieste dove trasmetto, quella di Udine vicino a qui, che hanno svenduto le multi-utility in mano ai cittadini, quindi l'energia venduta però era posseduta dai cittadini, l'hanno svenduta a aziende più grandi come era, faccio l'esempio appunto di Accegas e di Amga. Io voglio tenere le partecipate comunali, no? Bisogna tenere le partecipate comunali che funzionano bene, perché il controllo deve essere vicino ai cittadini e se non danno i servizi, amministrano male, alzano i prezzi o fanno i furbi, i cittadini possono dire all'amministrazione vai a casa e metti altri amministratori. Non vuol dire che se qualcuno faceva il furbo con alcune partecipate ed erano governate male, bisogna far fuori tutte le partecipate. Quelle governate male allora bisogna trovare una soluzione. Quelle che funzionavano avevano utili e vanno bene, mi sembra una follia svenderle magari ad era dove guarda caso chi le amministra è lo stesso colore politico dei sindaci che le svendono.